Ciao ciao tu, benvenuto, questo è sempre col cappuccio da coglione, no per fare il figo, cioè va poco che fa freddo Vabbè comunque ragazzi scusatemi tra il video e che ho l'ultimo video che ho fatto in quest'alto E' passato un asso di tempo, scusate un poco, cioè sembra che è notte però sono notte Comunque iniziamo subito al discorso del video, queste sono le pagelle di Napoli-Roma Forse un po' tardi però rispetto alle altre volte che le facevo sempre sono in tempo Perché non l'ho fatto il giorno dopo, il giorno dopo Le pagelle di Napoli-Roma, il Napoli ha pareggiato uno a uno all'ultimo minuto di Martens Questa frase la dico sempre, iniziamo subito con il portiero-Rospina Perché voglio andare subito, perché non oggi questo video dura poco, dura molto Poi scusatemi sempre con mancanza di qualità rispetto alle prime puntate Senza montaggio, senza copione, senza niente Però dopo, a me mi piacciono dire le pagelle Dopo non mi voglio rompere il cazzo, dopo che mi passa la voglia Perché mi rompo il cazzo a fare il montaggio Iniziamo con il portiero-Rospina, voto 6 Il collo non è colpa, so assolutamente, poi io sciaravo e stavo pure sbagliando Aspire, comunque sono molto contento Si è rivelato a questo azzeccato, avete visto? Quando Spina ha preso confidenza con il calcio di eleno Che belle le prestazioni che sta facendo Non è che oggi ha fatto chissà che Perché pur lo stesso la Roma non è che ha fatto chissà che appunto Ma comunque Spina sempre in partita come partita Mi sta dando sempre più fiducia E poi non è spericolato, fa sempre lo sci del giusto Lo sci del per me sono le punte di forza di questo giocatore È bravo anche con i piedi Certe volte ha fatto certi lanci Per calcio, veramente complimento Spina Poi Albiol 6+, l'unico della difesa che mi è piaciuto Sono sincero Allora se metto Albiol 6+, potevo mettere anche Spina 6+, Però diciamo che Albiol in tutta la difesa del Napoli ha fatto schifo Invece Albiol invece no È l'unico che ha salvato un po' la baracca Diciamo in quelle poche volte che la Roma ha attaccato Infatti ha salvato un gol sulla linea Non era così difficile Ma comunque ha fatto una buona partita Ogni partita fa sempre il suo Poi oggi è condito ad un bel salvataggio Quindi complimentato Albiol Coulibaly, il suo compagno di riparte invece non mi è piaciuto proprio Coulibaly è una delle peggiori partite che ha fatto in questo inizio del campionato Cioè si vede quando Vabbè, vabbè, non lo so perché con PSG Liverpool L'ho giocato bene però contro la Roma E dai che cazzo È sempre con le piccole Durante qualche eccezione Fa sempre male Io gli do 5 e mezzo Coulibaly Ci potevo dare 5 però diciamoci C'è stato di peggio in questa partita C'è stato di peggio che vedremo Però Coulibaly dai che cazzo Coulibaly che cazzo Ma non mi puoi fare Cioè è vero che tu dovevi prestare Cioè infatti negli scontri quasi semplici Sei riuscito a trattenerlo A non farlo girare E fargli fare fantasia Però nell'occasione del gol La colpa è stata tua Che hai fatto Isai Come non fu Che le sei fatto su Biltun E là che cazzo poteva fare Perché se fuoriare Coulibaly Perché sta cosa È inspiegabilissima Isai stesso Pure gli 5 e mezzo Poteva meritare 5 Però un terzino Che non fa niente Non fa un cazzo Tutta la partita Non si può meritare la sufficiente Ma tanto questo Già si sa che Isai è scarso Già si sa Però almeno dai Diciamo Ha fatto di peggio Diciamo ci ha fatto di peggio Però un 5 e mezzo Non glielo ne nega nessuno Ma non lui 5 Gli do 5 Non perché ha fatto una partita Peggiore di Isai Anzi per me ha fatto meglio Però per quello Tanti Isai si sa Che è scarso Ora l'ho detto Però Mario Rui Ci si aspetta un po' di più Ha fatto il lavoro Di un buon terzino Questa cosa ce l'avevo detta Però deve attaccare di più Ha sbagliato molto In passaggio In cross Non ha sbagliato Non ha sbagliato Non ha sbagliato Un passaggio Un cross Ma che cazzo Mario Rui Un po' di precisione per favore Per il resto buono Poi pure in fase difensiva Mamma mia Mamma mia I problemi del Napoli Terzino Andiamo al centrocampo Andiamo a Hamzik Hamzik sei meno Hamzik si Mi è piaciuto Però raga Non deve fare un immediato Cioè raga Io provo il Realla Mediano Queste cose ce l'avevo detta Mille volte Perché Hamzik Non ha un vero mediano Infatti Si è fatto vedere L'unica volta Quando è attaccato Ha provato a fare di riporta Per cui il tiro ce l'ha È sprecato sulla mediana Poi allungarchina Vedi però Non corre proprio Non vince un contrasto Non è proprio in fase di interdizione Quindi per me Hamzik Bocciato in questo inizio Perché lui deve essere il mediano E lui che deve inventare Invece no Fa inventare Allan Passa Allan Passa a Kulibra Lì molte volte I lanci sono arrivati dai difensori Quindi non va bene Hamzik È vero che non è un mediano Di ruolo Però qui Ancherotti Dovrebbe far capire Dovrebbe capire Che ne cosa soi Oppure farlo migliorare ancora di più Lo stesso Anche il compagno di parto Sei e mezzo Non è tarla Monumentale Raga una sola cosa Allan ha sbagliato un pochino In fase di passaggi In fase di Cioè raga Lui nello stesso momento Ha fatto mezzala Mediano Difensore centrale Fa tutto Allan È tutto fare Allan Mi dispiace un po' Perché è molto stanco Raga qua Risc Risc L'infortuna Anche se Allan non si infortunerà mai Ecco l'ho gufata No perché lui è veramente un mostro Perché se non mi sbaglio Allan non ha giocato tutte le partite Questo significa Che è importante Prancelotti Prancelotti Dai Qualche partita Falla giocare È vero È vero Allora Arroga non era indisponibile Al posto di Amsik Al posto di Allan Potevi mettere Diavera Però dopo c'avevi due mediani Sia Allan che Sia Amsik Che Diavera Quindi giocatori un po' Di impossimili Quindi non so come potresti fare Vabbè Però Allan l'avrei fatto giocare Però Dai la prossima Per favore Fallo riposare Perché è troppo stanco Si è visto Nonostante abbia fatto Una grande partita Però Un po' sottotono È per le potenziali Però Però ha fatto una grande Cioè Nulla da dire Allan Assolutamente Fabian Ruiz Sei e mezza Pure lui Veramente Fabian Ruiz Una soppesa in queste ultime partite Perché finalmente Non dico che Ciava le 30 milioni Lash Deve ancora mangiare tanta merda Però mi sta piacendo Cazzo Nel primo tempo Ha fatto Un Ha scartato 5 giocatori Io però Non riesco a capire Perché Ancelotti Lo faccia giocare sempre a sinistra Il suo vero ruolo Si sa Non è un centrocampista centrale Non è un quartista È l'esterno Perché Fabian Ruiz Abbiamo visto come gioca È l'esterno Però non lo fai giocare a sinistra Perché lui è un giocatore Il classico giocatore Che ti rientra E fa il tiro Gira o fa il cross Perché lui è bravo Ne tira giri Lui quando deve rientrare Se non gioca a sinistra Va col destro Va col destro E quindi lo devi far giocare a destra Per favore Fai giocare Fabian a destra Anche se Cagliacon Pure lui Ha preso 6 Però Cagliacon Diciamo È importantissimo Per Napoli Anche oggi Buona partita L'unico che ha saputo Fare i cross L'unico che sa Fare i cross Di questo Napoli Cosa è Cagliacon Io non ho più parole Per questo È vero Forse è un po' sottodono Per l'altra squadra Di due come Cagliacon Non sta facendo una buon campionato Perché sta ancora a 0 gol E qualche assist Qua Quella Però diciamo raga Voi non vedete le partite Cagliacon Cagliacon È sempre fondamentale Per Napoli È vero Non è quel giocatore Che ti fa saltare l'uomo Che ti infiamma allo stadio Però veramente È un gran calciatore È fondamentale per Napoli Poi Poteva fare qualche assist Non sfruttare di Milica Poi andiamo Gli attaccanti Non mi sono scordato qualcuno No Andiamo a Insigne Insigne 5 5 Insigne Non mi sei piaciuto proprio Perché tu devi essere Il giocatore fondamentale Il giocatore chiave Di questa squadra E poi contro la Roma Il big match Mi beffiorisco a capire Come mai In Champions League Contro Liverpool E PSG Mi fa partite della Madonna E poi in campionato Nelle partite che contano Contro Juve Roma mi fa delle partite di merda Insigne Per favore Hai sbagliato di tutto Sei riuscito a mangiarti di tutto Di tutto Per favore Insigne Dai che cazzo Poi andiamo a Milik Milik 4 e me No anzi dai Diamoci Diamoci 5 pure a lui Perché i due attaccanti centrali Insigne e Milik Mi sono piaciuti Poi quando è entrato Mi ha visto Milik Milik Basta Avete visto già come Faceva Serena La squadra Milik con Porpo La davanti Non ha preso una palla E come che giocavamo in 10 Poi ci sta che prende palla Perché il tiro l'ha provato E non dico che ha fatto tutto Sto squifezzi di partita Provo a fare pure la partita Della Madonna E' entrato Mertens 7 Milioni in campo Mertens Ci ha messo l'anima Ci ha messo la quinta Infatti lui ha segnato il gol Vedete ma che gol Raga Non è così banale questo gol In fase di Proprio di bellezza Perché Mertens E' un giocatore Che Non si stanca mai Che ci crede sempre Infatti se lì ci fosse stato Un calciatore Non ci avrebbe creduto E magari fosse andato in ritardo Invece Mertens E' sempre lì che ci crede sempre Sono contentissimo Che vi avevo detto Col contro di tre Col consecutivo Di vista Venti complimenti Grande triste Grande triste Poi come altri campi Che ha cambiato Zialeschi senza voto Non ha fatto un cazzo Sinceramente Malquist Malquist E' più Malquist Mi è piaciuto Quando è entrato Finalmente abbiamo visto Un vero tassino di spinto Allora ho fatto entrare Pure ai primi campi Che volevo Quindi sono bravo Sono intelligente Come Ancelotti No vabbè Comunque Malquist Mi è piaciuto Complimenti A Malquist Che ha fatto qualche buon cross No non buon cross Perché nessuno Nessuno l'ha sfruttato Però In fase di attacco Su come tassino Si è fatto sentire In questi pochi minuti In questo Ancelotti Il mese Mi cancello Non lo so Ancelotti Voto Non lo so Voto Aspetta Ci devo pensare Perché io manco me li preparo Pensate un po' Io Ancelotti Gli do Gli do Sei Gli do sei Perché la colpa non è sua Perché Napoli ha giocato molto bene Ha giocato molto bene Però una cosa c'è da recriminare La squadra Poi Ancelotti Voto squadra Diciamo Che vanno un poch' insieme Perché Ancelotti Quando il Napoli perde È colpa di Ancelotti Quando il Napoli vince Grazie a Ancelotti Perché è sempre così Voi dite Eh sì Ma non è giusto Sì È sempre così Perché Ancelotti È l'uomo in più Di questo Napoli Ovviamente Ancelotti Che però Ci ha fatto giurre benissimo Alla squadra Abbiamo preso un gol da matti Al primo tiro in porta Che subiamo Oltre a qualche eccezione Però una cosa Devo recriminare La squadra Poi voto squadra Do 6 Tutto 6 Perché veramente Non mi siete dispiaciuti Abbiamo fatto un pareggio Abbiamo subito un altro punto Poi contro la Roma Però come l'abbiamo subito Soltanto a questo Non si chiama Però il Napoli Ovviamente ha giocato bene Una cosa Devo recriminare Che cazzo Siete troppo leziosi Volete andare col pallone Dentro la porta Ma porca mignota Ma tirate da fuori Perché ci sono molte volte Dove i giocatori Possono tirare Tirare da fuori Tirare una botta Invece no Sempre così in mezzo Trova il sole Che cazzo E tira Come va vaga Almeno il tiratore Ce l'ha Zeris che è un buon tiratore Non ha preso Manca una palla Quando entrava Vabbè Giocato poco Però dai Però insegna Insegna ogni cosa Che faceva Sbagliava di tutto Milik Si è zero Mertens Che ve lo dico fa Poi Come la Roma Roma Miglioni in campo Non lo so Ci sono stati tanti Perché visto Che ha fatto Una brutta partita Però El Sharawi Pellegrini Manolas Però per me Il miglioro in campo È proprio Quest'ultimo citato Manolas Come si chiama È uscito pure Per l'infortuna Speriamo Non sia niente Per lui Perché Manolas Un gran difensore Forse un po' Discontinuo Solo questo Chi manca Per essere uno Tra i 10 migliori Difensori del mondo Per me E poi la Roma Deve essere una scuola Però dopo la semifinale Dicembre Se l'anno scorso E poi come peggiori in campo Raga Voi direte Ma come cazzo fai a dire Olsen Allora Non proprio colpa di Olsen Però Olsen ha fatto Belle parti Ma grazie al cazzo Ci mancasse pure Il Napoli ha attaccato 40 volte In una partita Il mio record Della storia Del calcio italiano E ci mancasse Che Olsen Non facesse Manco la parata Scusa Sennò questa partita Poteva finire 5-6-0 È normale Però Ma vedete Come le fa Separate Ma che partire Olsen Olsen Para a Kuno Ve lo dico Io A me Olsen Non piace Ma vedete Come para Come sconclusionato Come Sbaglia Cioè Gli tira la palla Moscia Lui la Ribatte centrale Volente Sì Efficace Però scusa Meglio Spina Di Olsen Per me Spina è Tre volte migliore Di Olsen Vabbè Tanto non voglio Potete dire Che Olsen Migliore di Ospina Potete dire Che è forte Potete dire Che la Roma E' una grande squadra Potete insultarmi Però Non insultatemi Se non siete d'accordo Anzi Iscrivetevi Clamorosamente Non clama Calma Ma si può dire Cosa ne pensate Mettete like Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao gioventù Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo